Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa, la segna stampa di inquieta notizie. Oggi lunedì 4 novembre, cominciamo sfogliando le pagine di Gazzetta del Sud che titola I mali dell'economia calabrese, il porto di Gioniatauro, troppa burocrazia e incertezza sulle strategie. A parlare il direttore dell'ufficio studio di Confcommercio, Mariano Bella, che indica le rotte per lo sviluppo della regione. 5 fronti, il vice sindaco di Missionario dice infangato da politicanti e a Gioniatauro l'appello dell'alaga aiutateci a migliorare la sede confiscata. Legalità, turismo e infrastrutture per il rilancio della Calabria, l'analisi del direttore dell'ufficio studio di Confcommercio, Mariano Bella. La questione ponte non è di natura ideologica, manca una strategia nazionale su Gioniatauro. Questa l'intervista di Francesco Diziano, 5 fronti, bellocco infangato, senza motivo, ma non mollo la politica. Gioniatauro, l'associazione alaga, chiede sostegno per la nuova sede, un edificio confiscato. Il piria contro il femminicidio nella cultura della prevenzione, Rosarno, con l'interessante monologo di Alberto Michelotta. E a Gioniatauro, Camera di Commercio, valeva la pena fare qualche sacrificio. Costantino, presidente del comitato interprovinciale sulla sicurezza, non nasconde le sue perplessità. Tauria nuova, casalinga si toglie la vita, ingerendo, disserbante, soffriva di depressione. E infine, una fotonotizia, Santo Stefano in Aspromonte, sagra per 2000, buon gustai, grande successo per la sagra della Castagna. Pagine dell'ora della Calabria, Simona non si è suicidata, l'ha uccisa un amico. Il fratello e la cugina chiedono giustizia, vogliamo verità. A San Calogero, i funerali della ragazza morta a Roma. In alto, Gioniatauro, Labbate, nel memoriale accusa Russo e fa i nomi di Caridi, Priolo e Cedro. Nuovi sviluppi, quindi, nelle inchieste di truffa a Gioniatauro, che hanno poi portato al pentimento di Antonino Russo. Memoriale Labbate, tremano i truffatori, il giovane in colpa Russo e fa i nomi di Caridi, Priolo, Cedro e Bevilacqua. Nelle foto da sinistra, Pasquale Labbate, Antonio Russo, Rosario Caridi e Pino Priolo, accusato di associazione per delinquere, finalizzato una serie di truffe. Pasquale Labbate è finito nel 2012 nell'inchiesta ISI della Procura di Palmi, accusato di associazione per delinquere, finalizzato alle truffe e, al falso nel suo memoriale, annota nomi e circostanze di persone. Poi finita in carcere per le truffe che si accompagnavano ad Antonio Russo. Labbate ha detto al PM di avere partecipato alle truffe solo per bisogno. Il GIOIS sostiene di non avere nulla a che fare con l'associazione per delinquere, capeggiata dal nuovo collaboratore di giustizia, Antonio Russo. Cinque fronti, bellocco, io vittima dei professionisti della politica. L'ex vice sindaco chiarisce in un manifesto i motivi delle sue dimissioni. Qualcuno avrebbe lucrato sulle accuse contenute nella lettera anonima. Fondo pagina, centro di aggregazione, si riparte, nuova stagione per il progetto comunale Piccoli Grandi Cuori. L'ente ha chiesto un contributo sia alla regione che alla provincia di Sabili, Rosarno, stazione. Dopo le proteste da oggi attivo l'ascensore. Dopo le numerose denunce, il sindacato Fast Ferrovie comunica l'intervento di rete ferroviaria italiana. Mezzo secolo di guida spirituale, gioia, la città si è stretta intorno a Don La Ruffa per i 50 anni di sacerdozio al Duomo. A celebrare la ricorrenza anche il vescovo di Opido Palmi, Francesco Milito. San Pietro di Carità, prateria il sacro quadro di Pompei, la comunità accoglie nella piccola frazione l'effigie della Madonna, ricevuta per l'occasione dalla delegazione pontificia di Pompei. E chiudiamo la nostra rassegna con le pagine del cuterino della Calabria in migliaia all'addio a Simona. Palloncini e barabianche, funerali, parenti e amici, nessuna vendetta ma giustizia. La famiglia della giovane di San Calogero, trovata morta a Roma, dice, è stata uccisa. Renzi non passa nella piana, orientamento chiaro, anche se mancano ancora le sezioni di Rosarno e Gioia. I circoli del Partito Democratico e di diversi comuni premiano gli sforzi e la linea politica di Sebi Romeo. L'archeologia come patrimonio di conoscenza è crescita. Il Pire di Rosarno prosegue nelle attività didattiche e scientifiche. Consulta di Palmi premiati i vincitori per il logo e il motto. Dimissioni in giunta ma non mollo. L'ex vice sindaco di Cinque Frondi, Maurizio Bellocco, scrive una lettera aperta ai cittadini. Enzo Difesa dice, contro di me soltanto attacchi di bassa lega e vigliacchi. Non ci sono alternative all'attuale esecutivo. Era questa l'ultima notizia di oggi. Piena Stampa torna domattina alle 8.30, come sempre, subito dopo il caffè. A voi tutti, da Lucio Rodinò, l'augurio di una buona giornata.